Si è tenuto al circolo dei lettori il secondo dei quattro incontri spettacolo del ciclo Europuzzle organizzato dalla consulta europea in collaborazione con l'Accademia dei Folli. Il tema della serata, in equilibrio tra musica e parole, le stelle in cucina, alla scoperta della letteratura gastronomica, dalla guida Michelin alla bandiera dell'Unione Europea.